Continua la caccia al bomber in casa Crotone. Dopo aver sondato il terreno per Simi del Venemento e l'Escano del Pescara, la Società Rosso-Blu ha mosso i primi sondaggi per Rocco Costantino. Trenta gol messi a segno in due anni per l'attaccante che si sta dimostrando uno dei bomber più affidabili della categoria. Il centroavanti del Monterosa è uno dei grandi obiettivi all'attacco del Crotone che in un solo colpo dovrebbe salutare sia Tuminello che Bernardotto. Tanta concorrenza per l'ex Bari. Costantino piace anche a Lecco. Il sogno di inizio anno del Pescara porta da Amato Ceciretti, oggi in forza all'Ascoli. L'ex ala delle giovani della Roma è il nome in cima alla lista del direttore sportivo del Icardi per rinforzare gli abruzzesi. L'Ascoli è pronto a cederlo, da valutare però l'intenzione del calciatore di scendere di categoria. Il Foggia è vicino ad ufficializzare il primo colpo in entrate di questa sessione invernale di calcio mercato. Dal Venezia può arrivare in presso all'esterno islandese Bjarke Sten Bjarkason, operazione che dovrebbe chiudersi con un presso come lo scorso anno avvenne con il calciatore girato per sei mesi ai Lagunari al Catanzaro. Nicolás Belloni terminerà con ogni probabilità il presso al potenza in questo mese di gennaio, nuovamente avventura in serie C per l'Argentino di Prevedade del Pescara. Il Latina è pronto ad accogliere con la stessa formula dei Lucani. Il Latina è pronto ad accogliere con gli abruzzesi.